Un carico di ferro radioattivo è stato respinto nelle scorse ore alla dogana commerciale di Comobrogeda tra Italia e Svizzera. Lo rende noto l'Agenzia delle Dogane. Il camion trasportava pezzi di metallo, avanzi di lavorazione in ferro provenienti dalla Svizzera. Nello spazio doganale, gli esperti come da Prassi hanno controllato i valori radiometrici. Dalla misurazione sono emersi valori anomali di radioattività. È scattato quindi il protocollo di sicurezza. Il carico è stato isolato in un'area delimitata e interdetta al personale non qualificato. Sono state allertate tutte le autorità competenti in materia di sicurezza e tutela ambientale della popolazione, quindi ARPA e Prefettura. Il prefetto di Como, su parere dell'ARPA, ha disposto il respingimento del carico al soggetto responsabile dell'invio in Italia. La sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso, nelle prossime ore, darà esecuzione all'ordinanza del prefetto, invitando il soggetto svizzero a rimuovere con tutti gli accorgimenti del caso il materiale radioattivo dagli spazi doganali italiani, allertando anche l'autorità doganale svizzera allo scopo di far movimentare il carico più velocemente possibile attraverso gli spazi doganali elvetici.